Possono vantare un tasso di occupazione dei loro diplomati superiore all'85%, le due scuole superiori di alta specializzazione visitate dal presidente della regione con l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione. Si tratta di Prime, la fondazione ITS per la manutenzione industriale che opera nelle nuove tecnologie per il Made in Italy con sede presso l'ITIS Leonardo da Vinci di Firenze e della Made in Tuscany Academy di Scandicci che opera in particolare nelle nuove tecnologie per la moda con sede nel castello dell'Acciaiolo. Eccellenze formative che stanno funzionando e crescendo anche grazie al sostegno della regione toscana che negli ultimi tre anni ha stanziato a loro favore più di un milione di euro. Noi lavoriamo in rapporto col territorio fin dai primi anni della formazione dei nostri studenti, abbiamo partenariati con tutte le aziende più importanti del quartiere e della città e i ragazzi lavorano a scuola e lavorano sempre pensando a quello che faranno successivamente e noi pensiamo al loro futuro. Non ci fermiamo con la nostra prospettiva al diploma ma proiettiamo già i nostri ragazzi oltre. In Italia gli istituti tecnici superiori sono 87, in Toscana ce ne sono 7, specializzati nelle filiere ritenute strategiche per lo sviluppo regionale. Grazie a tutti.